Quindicesimo, Laurenti crea e ispira la prima rete dopo aver saltato due avversari, forge al centro per Agnale. Alla tre stesso Laurenti a raddoppiare, botta dai 25 metri, la palla impatta sul difensore e la traiettoria beffa Bastianoni. Dopo un gioccio senza reti che contenta due squadre con obiettivi. In successiva la SPAL si produce nel pareggio molto bello di Laurenti sulla torre di arma, la chi d'arma ha messo indietro questa bellissima palla, dunque il risultato di 1-1 che non cambierà più fino alla fine. Allora, parlare ancora di queste partite velocemente. Stavamo parlando prima del Lumezzane. Per questo la mia impressione e quindi il mio giudizio in tal senso. Attacca, si ferma, poi sinistro, raso terra, buono. Alla fine è stato anticipato, Marconi ancora SPAL. E' anche la misura del passaggio proprio per questo aspetto climatico. Marconi ha recuperato un buon pallone, vicino c'è Melara, Marconi ancora se ne libera a cercare Agnendi. La palla dietro, non ci sono compagni, può ripartire da SPAL. Si sono aperti anche degli spazi di ora. Laurenti sale Canzian, se ne va a sinistra. Agnelli, buono lo stop. Alla per Laurenti, limite dell'area, Laurenti. Poi dietro per Marconi. Non ha provato il colpo di testa. È stato fallo di Laurenti. Laurenti. Giusta, a mio avviso, la segnalazione dell'arbitro. Si ingenuo in questo circostante il ragazzo. A cercare l'impatto. D'altronde era proprio lì l'assistente numero uno. Alla in trasferta, conferma anche di quello che si diceva. Sul campo del Lumezzano, per uno a zero. Laurenti. Laurenti, destro! Non inquadra la porta. C'è il primo cambio della Provercelli in questa gara. Uscirà di sabato, pronta ad entrare in campo, Tripoli. È intervenuto però Canzian. Poi Tripoli. Cerca l'uno contro uno. Tripoli su Laurenti. Sono in due della SPAL. Dietro ad appoggiare anche Bencivenga. Un pallone in aria di rigore. Vede bene Laurenti. Sale in sovrapposizione. Canzian riceve. Se ne va Laurenti. Ha toccato Tripoli. Ha favorito Laurenti. In aria di rigore. Laurenti, Laurenti. Prova a superare Modolo. La percussione di Laurenti. Sempre molto veloce. Però bravo Modolo a mettersi in mezzo. Sì, molto bravo a intercorre il suo corpo. Poi una manata. Adotta questo schema attattico. Una SPAL che è consapevole delle difficoltà che avrà questa sera sul campo. Però una SPAL che è piacchinata a portare via Monti qui a Vercelli. Andiamo a vedere anche là. Acudendo tutti i varchi. Non è semplice per la squadra della Pro Vercelli. Riuscire a trovare un compagno. Il rilancio in avanti. Poi chiama il rilio di Armenize. Insiste la SPAL. Laurenti viene fermato nella sua azione. Salva! Tutta l'esperienza di Capecchi in questa azione. Ha letto molto bene l'atleta. Giocatore della Fiorentina. Che è in prestito alla Pro Vercelli. Giocatore che ha fatto benissimo con le giovanili. Come diversi calciatori. che sono qui. Anche questo è da sottolineare. Due squadre che hanno puntato molto proprio su Giovanese. Di sicuro è una classifica buona. Attenzione qui intanto. Alla spalla il tiro! Valentini! Ancora Ale che ha visto la risposta di Valentini. Era il destro. E avete rivisto grazie a Roberto Valdata. Sì, ottima questa conclusione. Attento Valentini che è riuscito a innescare il due d'attacco piemontese. Quando invece rimane troppo dietro alla linea dei piccoli tappi. Ha recuperato ancora la SPAL. Marconi, Agnelli. In parte con Canzian. Laurenti si ferma. Allora è giocato centralmente ancora per Laurenti. Sale Ghiringheni. Aspetta Laurenti. Restata da Marconi. Laurenti si avvicina all'aria. Velocissimo Canzian. Vuole il destro! Valentini! Con grande motivazione. Molto bravo. Si fa sempre trovare smarcato. Poi quando riesce a puntare l'avversario diretto. Non ci pensa due volte. Da lontano prova il tiro. Morsato è la prima parata del portiere della SPAL. Teodorani. Dopo tre minuti di parma e perna. Angoli. Siamo sul 3 a 2 per il PIP. Laurenti. Come ho già detto nel primo tempo con Melara. A mio giudizio da più positivi. Canzian. fin da questa uscita. Teodorani anticipa tutto. E poi fa subito ripartire velocemente a sinistra. Laurenti. Che fa una lunga corsa. Poi dall'altra parte non ci arriva a girarsi. Viene tamponato. Riparte Laurenti. In profondità. Supera Favoli. Favoli. Allarga per Laurenti. Laurenti cross basso. Chiude Favoli. Arma. Agnelli. Largo per Laurenti. Laurenti che è libero. Si va incontro Odel. Laurenti. Palla dietro. Favoli che salva. Obodo con B. Ed in. Obodo ancora che lotta. Laurenti che recupera. Pallo fischiato. Agnelli. Sicuramente buon centrocampista. Laurenti. Mendy. Salta Odel. Mendy. E sta contro l'attaccante. Polizione già battuta. Favoli. La sinistra. Per il solito Laurenti. Sicuramente migliore tra i suoi anche per la tenuta. Cosa che fino in fondo invece non ha avuto Melara. Sicuramente però anche lui un buon. Poi c'è proprio un uomo impiato Cosner. Su Sremolada. Laurenti. Altro anticipo di. Sρα Auvet. Questa è un uomo impiato.